Scendere! Ho troppa mercanzia sulla tavola Vuoi che ti vengo a scomperare? No, no No, ormai parte Beh, però il chiuso di guerrieri devi mangiarlo Allora, siete pronti, eh? Ha mangiato il sushi? Andiamo a... Un posto nuovo Posso metterlo io nel punto? No Andremo a... Questo posto iJones Ma ci siamo già stati, non è nuovo Ma ci siamo già stati! Ma ha portato bene, avete vinto È vero Andiamo ad iJones Andiamo qui, va bene, va bene, mi piace Che anche lontano, eh, non è facile arrivarci No, ci arriviamo, ci arriviamo Ok, pronti? Vai, 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 vai! Non andate in picchiata, eh? State abbastanza alti se non ci arriviamo No, no, non ho picchiata Ok Che io non mi ricordo bene come funzionava sto gioco, però Guardi dritto e vai più avanti Eh, guardate leggermente sotto il basso Ma non tanto in basso Dovete stare abbastanza più E dovrei arrivare in preciso Ok Madonna Perché hanno scritto il filtro? Cosa ho messo? Un filtro? Prima c'era un filtro strano Davvero? Quello di crash band Non l'ho messo apposta? È bellissimo era Non l'ho messo apposta Magari è tocchignato per sbaglio? Non l'ho toccata niente Quando apro la mappa si mette Oddio, è vero! Quando apro la mappa si mette il filtro Non lascialo, ti prego, è bellissimo Tanto lo ritrovo questo tasto Non c'è nessuno, possiamo luttare in tranquillità Cioè, quando apro la mappa divento È stranissimo Vabbè Ok posso